Un saluto agli amici di Quotidiano, il Lecce torna da Parma con un punto e probabilmente anche con qualche rimpianto, perché la squadra di Baroni ha atteso soltanto i minuti finali per cercare di vincere la partita e va detto subito che il Lecce oggi è apparso veramente molto stanco. Il primo tiro nello specchio della porta la squadra giallorossa l'ha effettuato al 39esimo del secondo tempo ed è stata veramente una doppia chance capitata a strefezza che però nell'occasione si è fatto ipnotizzare dal giovane portiere del Parma, Turk, autore di due parate veramente molto belle oltre che decisive. Nel primo tempo però era stato il portiere del Lecce, Plizzari, a compiere due interventi importanti sui tiri degli attaccanti del Parma, Benediac nella prima occasione e poi Vasquez nella seconda. arrivati però in seguito a degli errori individuali dei difensori giallorossi, errori che purtroppo continuano a ripetersi e sui quali sicuramente Baroni ed il suo staff lavoreranno nei prossimi giorni. Il Lecce aveva cominciato bene la partita, venti minuti di assoluto dominio, senza però mai tirare in porta. Poi è cresciuto il Parma, come detto nel finale ha avuto due occasioni per portarsi in vantaggio, poi un'altra occasione all'inizio del secondo tempo non sfruttata dalla squadra di Iachini che nel finale di partita ha rischiato poi di capitolare, prima sulla doppia occasione capitata a Strefelsa e poi sul gran tiro da fuori area, un destro a giro alla del Piero di Mariano sul quale il portiere veramente ha compiuto un grandissimo intervento, il pallone sarebbe finito sicuramente all'incrocio dei pali. E' finita 0-0 qualche rimpianto da parte del Lecce, ma a motivo di essere forse un po' amareggiato anche il Parma per non aver sfruttato le occasioni che sono capitate. Ora il Lecce intanto ha perso la testa della classifica, visto che il Monza pur soffrendo ha battuto in casa il Parma con un gol nel recupero realizzato da Barberis e domani saranno impegnate Cremonese e Pisa, la Cremonese farà visita alla Spal, mentre il Pisa giocherà in casa contro il Cittadella, per cui il Lecce rischia di perdere qualche posizione in classifica. Ora ci sarà la sosta che arriva sicuramente al momento giusto per il Lecce che è molto stanco, ma alla ripresa delle ostilità poi i giallorossi dovranno giocare tre partite nel giro di otto giorni. Il 2 aprile in casa contro il Frosinone, il 5 aprile sul campo della Ternana contro la squadra allenata dall'ex Lucarelli ed infine il 9 aprile di nuovo allo stadio di Via del Mare, questa volta contro la spalla di Meccariello e Mancoso. Quindi riprenderanno il tour de force e di conseguenza il Lecce ha veramente necessità di ricaricare le batterie in vista di questo finale di campionato, mancano sette giornate alla fine che si annuncia veramente incandescente. Un caro saluto a tutti e appuntamento alla prossima volta. Grazie 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 Grazie